Adesso ci ritroviamo a fare l'ultima e dobbiamo farla molto bene, l'ultima in casa, non è l'ultima, è la penultima e la dobbiamo fare molto bene con il piglio giusto, con una squadra che sa che sulle prestazioni per quello che ha profuso dentro il campo deve rimproverarsi poco, però abbiamo da fare 31, abbiamo fatto 30 e quindi ci vuole la massima dedizione, la massima applicazione, la massima responsabilità perché è una partita importante e perché ci giochiamo una bella parte del campionato nostro.